Ciao ragazze, benvenute o bentornate al mio canale rieccoci nuovamente dopo un bel po' di tempo con i miei video di haul, di cose a caso che io ho rinominato un pochino come hcac, ecco, hashtag hcac quindi se vi va commentate con questo hashtag che ho tra virgolette inventato io allora per chi non sapesse i miei haul di cose a caso sono tutti i haul in cui vi farò vedere cose acquistate nell'ultimo periodo o negli ultimi mesi, accumulati ebbene sì, nei vari spazi della mia camera e sono comunque tutte cose che non riguardano makeup perché il makeup faccio i haul a parte anzi aspettatevi anche un video haul di makeup perché ho fatto pazzie con i saldi e niente, detto questo, prima di iniziare col video, a proposito vi dico anche che ci saranno inseriti in questo video anche due regali che ho ricevuto perché il 29 agosto cade il meno massico e quindi eccomi poiché ne sono due li ho fatti un'unica cosa in questo video spero che non verrà un video super lunghissimo perché se no, se è super 10 minuti dovrò fare purtroppo una seconda parte che non vorrei fare comunque detto questo, prima di iniziare col video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella, se vi va seguitemi su instagram e commentatemi con l'hashtag o per qualsiasi altra cosa niente, detto questo partiamo subitissimo allora, ho preso delle ciabatte che, comunque delle scarpe che però non vi farò vedere perché le ho già strausate da quando ce le ho mi piacciono un sacco, le ciabatte ce le ho attualmente, le uso per casa, sono veramente carinissime acquistate da Epicasa per tipo 6 euro e anche le scarpe, sono scarpe bianche basse da tutti i giorni quindi quelli, le scarpe non me li faccio vedere perché sono già in uno stato comunque che sono usate invece vi faccio vedere dei calzini, in realtà ne ho presi un bel po' li ho presi da MD, ho trovato la super offerta di questa marca Pompea abbastanza conosciuta a 2 euro e quindi ne ho presi un bel po', ho preso questi, ho preso questi qui bianchi con un po' l'effetto laminato solo sul bordo questi qui anche sono particolari in quanto hanno poi questa sorta di opaco sotto la pianta del piede, insomma non so come calzino soletta, vabbè c'è scritto poi quando guardo vedo l'il al viola non so restare indifferente, quindi anche questo qui leggermente laminato li ho pensati un po' come, a parte come calzini vabbè da tutti i giorni ma anche tipo come sotto delle belle scarpe magari anche col tacco questi qui invece sono calzini più semplici in cotone che hanno solamente queste borchette qui sempre sul bordo e infine ho preso anche queste qui laminate con l'argento poi ho preso qualche vestito ma in realtà non ne ho presi tanti perché comunque quest'anno per me niente vacanze e a proposito voi se siete andati da qualche parte o da poco siete tornati insomma fatemi sapere, fatemi sognare soprattutto voi dove siete andati perché io per me invece quest'anno ho deciso di non fare nessuna vacanza però andrò a fare tipo nel weekend dell'11 settembre andrò a fare questo weekend nella meravigliosa Sorrento e quindi anche giusto per staccare la spina e ho preso qualche vestitino ma che comunque non credo assolutamente di portarmeli tutti dietro in primis questo qui è il licra molto molto leggero, ho pensato per casa un vestitino veramente super easy o come copricostume poi anche questo qui con questa bellissima fantasia questo qui è un vestito anch'esso in licra e talmente che mi è piaciuto l'ho preso anche in blu che ve lo farò vedere dopo questi qui stanno i laccetti che si stringono sulla spalla molto molto bello e poi è floreale e amo i dettagli floreali in estate e poi anche questa tuta invece che io amo sempre le tute sono veramente super easy anche per fare la spesa e poi anche questa fantasia mi piace abbastanza poi come vi dicevo poco fa questo stesso vestito di quello nero stesso modello cambia solo il colore e l'ho preso anche in blu e come potete vedere già l'ho utilizzato infatti un paio di vestiti si l'ho già utilizzati non hanno più l'etichetta perché sono veramente super freschi e non si sentono addosso e quindi l'indosso con piacere poi ho preso questo pantalone a palazzo che dalla fotocamera del cellulare comunque risulta nero mi aveva sicuro che invece ha uno sfondo blu molto molto scuro e intenso un pantalone come potete vedere a palazzo ed è anche molto molto largo per me quindi probabilmente dovevo prendere una taglia in meno però comunque devo dire che è super comodo e l'ho pensato e l'ho acquistato per le serate estive e poi anche questo vestitino qui di cotone questo qui anch'esso molto molto leggero anche questo l'ho pensato o per casa o come copricostume però questo qui direi più forse per casa boh non lo so ci devo ancora pensare e per finire ho acquistato questi due vestiti questo qui anche molto bello stesso modello come gli altri anche lì si stringe sulla spalla però la fantasia astratta poi di questo colore così arancione vitaminico con anche del rosso mi è piaciuta da subito e l'ho acquistato poi anche questo super super lungo come anche questo qui che ammetto che tra tutti è il mio preferito in assoluto perché comunque seppur con la sopra semplicità perché comunque è nero fatto comunque a costine non ha fantasie come gli altri però mi piace tantissimo in realtà poi come mi sta e poi dietro so che non si vedrà mai anche uno spacco abbastanza bello profondo e mi piace tantissimo per il sabato estivo poi altra passione forte che ho e che voi non sapete perché comunque mi state conoscendo tra virgolette da poco sono le unghiette ho sempre fatto le mani da sola solo in questo periodo estivo ho deciso di chiamare un estetista però comunque ad ottobre massimo voglio tornare a rifarmene perché mi piace sperimentare mi piace proprio farle e ho preso un prodotto che voglio un metodo anzi che voglio assolutamente provare anzi che voglio anche testare con voi sperando che non sia incrociamo le dita che non sia un epic fail e sto parlando del lacry gel che è un metodo che soprattutto negli ultimi anni se non mesi ha spopolato tantissimi quindi mi ha incuriosita e ho preso il kit ma prima vi faccio vedere altre due cosine che mi servivano perché ho visto l'altro giorno tra i miei smalti che stavo per terminare le basi per gli smalti io uso lo smalto solo sui piedi e l'altra volta d'OVS mi sono recata per prendere quello di Essence in cui mi sono trovata bene però non l'ho trovato e quindi ho reperito su Revolution pagati 5 euro all'uno e ho preso questo è il prep hydrate questo qui è quello lì appunto base base coat sì mentre questo qui è quello shine il finish praticamente questo qui non mette a fuoco comunque è il finish se li avete fatemi sapere nei commenti come voi vi siete trovate io non vedo l'ora di provarli e a proposito penso che farò prossimamente anche un altro video di decluttering dei miei smalti perché ho notato che ci sono tanti smalti che non uso ho dato chance su chance ma comunque continuo a non usare per cui a sto punto direi che è il caso proprio di farlo vabbè torniamo a noi partiamo con i protagonisti appunto di questo haul unghie ovvero appunto proprio i tubetti dell'acrigel io ho preso sia il bianco anche il cover pink e ne ho preso anche un altro questi qui di me sauda a prezzo pieno costavano 46,90 però in quel periodo in cui sono andata era il primo di agosto comunque i primissimi di agosto nella mia profumeria vicino casa c'era un 10 o un 20 per cento di sconto infatti anziché 46,90 li ho pagati 37,50 all'uno quindi direi che ho risparmiato un bel po' si presentano proprio come se fosse c'è proprio un vero e proprio tubetto questi qui però anche se ne parlano stra bene di mesauda in internet anche di passione unghie però passione unghie non ha un negozio fisico quindi sono andata più su mesauda però ne ho acquistato anche un altro ecco che ho acquistato anche questo qui il natural pink che è proprio il rosa chiarissimo proprio per fare il baby boomer e anche il color bianco l'ho preso e pensato proprio anche per fare baby boomer e imparare a farli mentre invece il cover pink è proprio il rosa appunto cover che copre l'unghia è più scuretta e più scrivente quindi ho preso questi tre per 37,50 all'uno anziché 46,90 poi ho preso quest'altro tubetto di questo marchio proprio low cost Clarissa pagato 14 euro perché l'ho pensato per le primissime volte facendo anche video con voi insieme lo proviamo insieme questo nuovo metodo per non usare subitissimo questi mesauda che comunque mi dispiace non avendo una mano esperta non sono estetista ho preferito prima andare su un qualcosa di ecco meno costoso se vogliamo poi ho preso appunto tutto il kit la spatolina per prelevare il prodotto pagato 2 euro questo anche veramente 1 euro 50 centesimi il pennello questi qui sono appunto le capsule che servono per per l'acrigel il bicchierino in vetro per metterci la soluzione anche la soluzione è di mesauda ci sono scritti comunque tutti i prezzi qui devo dire che a parte i tubetti che sono l'unica cosa più costosa le altre cose sono abbastanza fattibili anche economicamente parlando e quindi questo anche è il prep anche questo pagato pochissimo e poi le ultime due cose ovviamente una cosa che acquisto sempre è questa lima qui di Peggy Sage mi trovo molto molto bene con questa non so di queste quante ne ho acquistate finora e poi anche l'ultra bond sempre di mesauda anche questo pagato pochissimo infine l'ultimo lo poi passiamo finalmente regali penso che stiate aspettando tanto questo momento comunque qualche giorno fa ho fatto un giro da Tiger e ho preso in assietto delle cosine che mi servono anche in vista del weekend che andrò a fare tra qualche settimana più o meno che sono queste quattro bustine di diverse dimensioni vedete super trasparenti e per metterci trucco e cose varie sempre strautili poi sempre per discorso appunto viaggi ho preso questa spazzola più specchio due in uno praticamente che questi li perdo come tutti i giorni praticamente come se nulla fosse quindi l'ho preso in rosa ma c'era anche il nero poi ho preso questo tempramatite mi ha fregata per il pecco sono sincera a parte il pecco è carinissimo con questi glitter ma poi vabbè comunque l'ho pensato e preso per il make up che io li rompo in continuazione temperamatite che costava pochissimo una chicca che ho preso anche se non so ancora bene come ecco cosa ci inserirò qui dentro la forma anche ovviamente di un bidoncino l'ho preso in rosa così si abbina facilmente alla mia make up station e non so non so se inserirci cose prodotti che utilizzo tutti i giorni o magari lo inserisco nei decluttering quando butto cose le inserisco qui dentro non lo so ancora e adesso arriva il pezzo forte di tiger e voilà ho preso anche questa lightbox che ho visto e stradivisto da quasi tutte le youtuber ce l'hanno io l'ho presa con il bordo nero questa è qui pensata in primis per un giorno per me importantissimo che più o meno avverrà tra un anno e mezzo ma anche per sfondo nei miei video perché comunque voi di me vedete solo le manine magari qualcosa simile può giovare insomma anche al mio canale l'ho già provata è funzionante super luminosa e solo questa l'ho pagata pensate 10 euro ma il totale comunque di tutto è venuto sulle 16 euro partiamo con il primo regalo che mi ha fatto il mio amore e penso che dalla bust avete già capito e sì si tratta di una borsa di Michael Kors e sono super entusiasta io in persona sono andata a sceglierla e sono veramente super super felice perché è la mia primissima borsa firmata la borsa esternamente si presenta così è una borsa comunque a mano prettamente da giorno direi per chi fosse interessata questo è il modello Satchel nella colorazione brown credo che questa sia una dimensione media perché ne ho viste di Michael Kors molto molto più grandi e devo dire che questa dimensione su di me mi calza meglio all'interno come potete vedere esce anche la tracolla infatti l'ho già usata un paio di volte devo dire perché è un colore che non avrei mai immaginato ma si abbina veramente a tutto è come se fosse un nero e poi all'interno ha veramente tante tasche anche questa è veramente super super capiente e anche questa taschina qui che la commessa mi ha detto che si può mettere anche tranquillamente il cellulare super super bella e per finire sarò super veloce perché già sto tipo a 17 minuti e per finire mamma mi ha dato i soldini e sono andata a scegliarmi un paio di occhiali ho scelto queste qui di dolce gabbana per chi fosse interessato non so io non non me ne intendo di queste cose credo che questo sia il codice del modello non lo so e ho preso anche il kit per la pulizia insomma degli occhiali pagato 8 euro con la pezzetta insomma e il prodotto in spray molto molto carino soprattutto anche da portare in borsetta ma andiamo agli occhiali che ecco qui questa è la bustina che contengono gli occhiali all'interno è uscita anche questa custodia per portarle in viaggio ma sono comunque per me troppo delicate e non le porterò mai come in viaggio e poi anche lì vicino mi serviva assolutamente un paio di occhiali perché le mie vecchie guess hanno fatto la storia e quindi volevo altre paia di occhiali nere e ho preso l'oro c'è guardate sono bellissime sembrano un po' questo effetto pizzo sono anche molto più grandi di quelle guess che avevo è un po' tipo a farfalla mascherina con questo bordo veramente super bello tipo pizzo e mi piacciono un sacco bene ragazzi il video termina qui vi ho fatto vedere tutte le cose che avevo acquistato e regalini compresi ci vediamo alla prossima ciao